Scusi, ma fermarci il piccio dov'è? Eh? Il che c'è? Dov'è? Eh? Il che vuoi? Sono di pro e vogliatemi rispettare. E non ti sento, voce. Per marci il piccio. Voce, non ti sento. Così, ma fermarci il piccio. Il che tu vuoi? Il cioccolato? Voce, non ti sento, venuti a Machu Picchu, Machu Picchu. Ma che Machu Picchu è Machu Picchu? Qui siamo a Prato, piazza del Duomo Prato. Oh! Sei di Prato? Come sei rispettato? Ma dov'è Machu Picchu? Ma ancora, ma qui siamo a Prato e ci saremo anche domenica prossima, domenica 21 ottobre alle ore 16, diretta e belli della diretta, dalla festa del cioccolato. Prato, cioccolato con tre. Lui agli oli c'è le paste!